La potatura è la seconda voce di costo dopo la raccolta che influenza significativamente la gestione dell'oliveto e l'insieme di differenti interventi tecnici realizzati sulla chioma o sullo scheletro dell'albero finalizzati a indurre e mantenere il giusto equilibrio tra vegetazione e produzione al fine di conseguire il massimo rendimento economico. La scelta della forma di allevamento e la potatura hanno come obiettivo l'esaltazione dell'attività fotosintetica della chioma. E' bene ricordare che molti tagliano, pochi potano, detto che descrive come la potatura sia un processo molto più complesso rispetto al semplice taglio. La potatura influenza significativamente la durata del periodo improduttivo giovanile delle piante, l'equilibrio vegeto-produttivo degli alberi e quindi l'ottenimento di produzioni abbondanti di qualità e costanti. La durata della fase di maturità delle piante, cosiddetta produzione. Il costo di produzione. E' la seconda voce di costo dopo la raccolta. Comporta un costo diretto, determinato dal compenso attribuito al potatore e uno indiretto, determinato dai mancati ricavi per il periodo più o meno lungo in cui la pianta rimane improduttiva o poco produttiva. Di conseguenza, la professionalità del potatore è importantissima per ricondurre la pianta a un equilibrio stabile, molto produttivo e a facilitare tutte le operazioni di gestione culturale. Come ridurre il costo della potatura? Sono proposte diverse soluzioni. Semplificazione della tecnica, la cosiddetta potatura semplificata e veloce. Aumento della meccanizzazione a seconda della dimensione aziendale. Utilizzo di agevolatori per velocizzare gli interventi. Applicazione di turni biennali o pluriennali. Semplificazione della potatura. Che serve a velocizzare o facilitare l'esecuzione delle pratiche culturali utilizzando adeguate attrezzature e limitando gli interventi al minimo necessario per arrivare a una forma di allevamento prefissata. Il vaso policonico. Per mantenere la piena funzionalità delle piante e correggere eventualmente e gradualmente la loro struttura iniziale. Nella potatura semplificata è fondamentale fare in modo che la pianta utilizzi le proprie risorse al fine di produrre più vegetazione che si predisponga alla fruttificazione e riduca la formazione di succhioni che sostanzialmente hanno funzione di ricreare struttura legnosa. Il vaso policonico era un sistema che era stato già messo a punto credo nel 1936. Professor Roventini aveva concluso la sua sperimentazione che era condotta con metodo scientifico, lui era un docente universitario e aveva appunto messo le basi di questo sistema. Aveva fatto anche una prova perché erano anni in cui si cercava di superare i limiti del vaso dicotomico che è un po' il vaso come lo impostiamo dappertutto quando non abbiamo delle direttive. È un modo molto semplice per impostare un vaso e il vaso sapete cos'è? È una forma di allevamento che permette di avere una maggiore esposizione alla luce solare. La pianta normalmente ha una forma globosa e se noi vogliamo avere più superficie fogliare esposta bene ai raggi del sole la prima cosa che è riuscita a scoprire l'uomo è che scavando intorno a questa a questa sfera si poteva aumentare notevolmente la superficie fogliare esposta al sole e questo vale perché si potenzia la produzione. Tutto parte da qua. La foglia cosa fa? Fa la fotosintesi. Le foglie dovete immaginarle come i pannelli solari più efficienti che siano mai stati inventati in natura. Dalle foglie quindi dai vegetali parte tutta la produzione della della sostanza organica della quale siamo anche noi composti. Quindi le foglie sono dei laboratori delle fabbriche dei pannelli solari che cosa fanno? Fanno la fotosintesi. La fotosintesi cos'è? E' quell'operazione chimica, usiamo dei termini più semplici possibili per trasferire a tutti. Cosa sono in grado di fare le foglie? Innanzitutto utilizzano una fonte di energia che è quella solare, utilizzano una materia prima che è la CO2, cioè l'anidride carbonica che sta nell'aria, che è una molecola molto piccola, è un atomo di carbonio che è unito a due molecole di ossigeno, due atomi di ossigeno. Molecola semplicissima e le foglie riescono a fare questa, diciamo, questa sorta di magia, cioè prendono 6 CO2, 6 molecole di anidride carbonica utilizzando l'energia del sole e l'acqua che viene aspirata dalle radici riescono a organizzare, a fondere, a fare una molecola più complessa che è fatta da una catena di 6 atomi di carbonio. Quindi si passa da un atomo di carbonio a una catena piccola che contiene 6 atomi di carbonio, C6, H12 o 6, se guardate nei libri. E che cos'è questo? È lo zucchero. Lo zucchero semplice è la mattonella fondamentale che poi serve a costruire tutte le altre molecole più complesse, più articolate, però alla fine è il punto di partenza che si può utilizzare per elaborare tutta la sostanza organica vivente. Quindi è il passo fondamentale di tutta la costruzione della vita, non solo delle piante ma anche la nostra e anche quella di… perché noi ci nutriamo delle piante, dalle piante prendiamo già un prodotto preconfezionato, se non lo prendiamo dalle piante lo prendiamo dagli animali che l'hanno preso però dalle piante. Comunque il punto di partenza è sempre questo. Quindi tutta la vita si può dire tutta la costruzione parte dalle foglie, tutta la produzione delle piante parte dal numero di foglie a condizione che siano messe in grado di lavorare. Questo lo capiamo tutti, no? E questo è molto importante anche per i potatori. Bisogna capire il punto di partenza per arrivare a poi al momento in cui si deve operare su una pianta, per fare che cosa? A cosa serve la potatura? Provate ad esprimerlo. Perché potiamo? La pianta è il primo passo e va bene. Per prendere il suono e le solle? Va bene, ci dobbiamo sciogliere un po' comunque. Per ottimizzare i costi di produzione? Bravo, qua è già un concetto più alto. Arriviamo già perché noi cosa vogliamo fare? Vogliamo, quando alleviamo l'olivo, innanzitutto vogliamo produrre le olive, che sono possibilmente, ne vogliamo produrre molte e possibilmente di grande qualità. Anzi, diciamo un'altra cosa che forse non ci farà piacere, però è così. Noi siamo obbligati, scrivetevelo questo, siamo obbligati a produrre olive di qualità. Perché siamo obbligati a produrre olive di qualità? Perché non è un vezzo, perché purtroppo noi ci confrontiamo con il mondo intero, nel caso dell'olio e delle produzioni olivicole. Nel mondo ci sono persone che sono arrivati a un livello evolutivo molto avanzato, ci sono persone come noi che grazie al cielo stiamo abbastanza bene perché abbiamo beneficiato di tutte le lotte, di tutto il progresso che ci hanno fatto fare quelli che ci hanno preceduto. Ci sono delle persone che vivono in ambienti, in posti dove non si hanno tutti i diritti che abbiamo noi, per cui il lavoro viene valutato in maniera diversa da come viene valutato da noi. E queste sono considerazioni che purtroppo dobbiamo fare, perché noi ci confrontiamo, nel caso delle produzioni olivicole, con dei paesi nei quali il lavoro non ha avuto un riconoscimento giusto come siamo riusciti ad averlo noi. Per cui una giornata, vi faccio un esempio molto banale, in Tunisia nel Nord Africa una giornata di lavoro forse si paga 7 Euro, credo che qua se Beppe Giacobbe chiede a qualcuno di venire per 7 Euro forse gli ridono in faccia per stare tutto il giorno al lavoro. E questo è giusto, perché dobbiamo dare il giusto valore alle cose. Quindi noi purtroppo ci troviamo messi a confronto per quel che riguarda la produzione di olio e di olive con dei paesi che riescono a produrlo con un costo notevolmente più basso. Ecco perché arriva olio dalla Tunisia, dal Marocco a prezzi stracciati. E non è neanche olio cattivo, perché dobbiamo anche toglierci dalla testa delle idee che tutto quello che non facciamo noi non va bene e quello che fanno gli altri è sempre di qualità inferiore. Se partiamo da questo presupposto, nel giro di 10-20 anni sparirà l'olivicoltura dai nostri posti. Quindi dobbiamo cambiare testa, dobbiamo cambiare approccio. Quindi cosa dobbiamo fare? Intanto utilizzare tutte le conoscenze per abbattere i costi di produzione, rendere più competitiva la nostra cultura. E dobbiamo dare il giusto valore all'olio. Però per dare il giusto valore all'olio siamo obbligati a produrre olio di elevata qualità che si discosti da quello che fanno gli altri. Possibilmente lo dobbiamo anche vendere insieme al territorio, ma questi sono concetti di marketing che sono successivi al mio discorso. Il mio discorso deve essere agronomico, quindi di efficientamento delle produzioni. E quindi dobbiamo costruire tutto da questo. Dobbiamo fare olio e olive di qualità per poter sopravvivere e acquistare importanza e avere soddisfazione nel mercato, perché è inutile fare filosofia. Se uno non ci guadagna, non riesce a accampare dalle produzioni che fa, allora è tutta filosofia. E forse hanno ragione gli altri che non dobbiamo più produrre e lasciare fare agli altri. Però vi assicuro che sarebbe meglio invece riappropriarci di certe cose. Anche perché nei periodi di difficoltà che abbiamo attraversato ci siamo accorti anche quanto è importante avere il grano buono e non inquinato da altri pesticidi che sono costretti a utilizzare quelli che non sono in condizioni di coltivare il grano come lo eravamo noi. Noi siamo passati da essere il granaio d'Italia a una regione che produce pochissimo perché è cambiata tutta la situazione, tutto il contorno e quindi i nostri agricoltori si sono trovati in condizioni di non coltivare. E questo è brutto. Torniamo all'olivo che è la pianta più bella del mondo per me. La pianta, se ci pensate, è la pianta più famosa della storia. Già nella Bibbia ci sono numerosi richiami. E proprio i testi sacri funzionano con delle simbologie. E proprio una di queste simbologie che vede l'olivo era quella del messaggio di pace che ha scritto l'olivo. L'olivo è proprio la pianta della pace. Questo bisogna ricordarlo a tutti i potatori. Anzi, è quello che fa la differenza tra i potatori e i tagliatori. Perché un potatore sa benissimo che l'olivo è questo, ha questo messaggio in sé che va rispettato. Questo messaggio era proprio un rametto d'olivo che veniva portato da una colomba, nel becco di una colomba, ve l'ho ricordato. Era la rapacificazione tra Dio e l'uomo. Proprio Dio si era adirata, aveva mandato giù il diluvio universale. Allora, c'era successo tutto questo patatracca. Alla fine, quando si erano calmate le acque, proprio era arrivata la colomba con l'olivo, a significare che si era calmato tutto. E quindi noi dovremmo parlare dell'olivo. Torniamo a lui. L'olivo, concettualmente, come tutte le piante, lavora con le foglie. E l'olivo, come prima caratteristica, ha quella di essere una pianta heliofila. Heliofila, lo dice la parola stessa, ama il sole, helios è il sole, per i greci. Lo ama a tal punto che deve conquistare proprio la luce del sole in tutti i modi possibili e immaginabili. E come lo fa? Lo fa mandando tanti percorsi, che sono i rami, che tengono le foglie, alla conquista della luce. Però l'olivo, nella sua natura, ha queste altre caratteristiche, che avete già sentito dire, che intanto è una pianta policaule cespugliosa. Policaule, cosa significa? Che ha come tendenza, forma un cespuglio su più tronchi. Il caule è il tronco, è quello. Non è la gaura, come qualcuno potrebbe pensare. Quindi, se voi lasciate l'olivo senza coltivarlo, alla sua natura, proprio all'espressione genetica, senza limiti, diventa un cespuglio che si forma su più tronchi. Noi non lo possiamo coltivare così. La storia della coltivazione e dell'allevamento è fatta di compromessi tra l'essere tra l'uomo e la pianta o l'animale che viene allevato. E quindi la prima considerazione è che noi, per comodità nostra, perché ci viene meglio, perché troviamo più economico, più soddisfacente coltivarlo, lo coltiviamo su un tronco. Quindi, è una pianta sempre verde, quindi le foglie, se sono messe, se stanno in salute, vivono per più di un anno sulla pianta, anche due anni, anche più. Finché sono verdi, continuano a fare il loro mestiere, cioè a produrre elaborati zuccheri e poi via via zuccheri complessi, amidi, cellulose, pettine, proteine e chi più ne ha più ne metta. Si costruisce tutto a partire da questi zuccheri e quindi a partire dalla fotosintesi. Tutti questi concetti li dobbiamo legare perché dobbiamo arrivare alla potatura con un ragionamento scientifico. policaule e cespugliosa, sempre verde, tendenzialmente basittona, i miei sono bravi, adesso sono in grado anche di spiegarlo agli altri. Basittona, le piante si suddividono in due grossi raggruppamenti, ci sono le piante basittone e le piante acrotone. Le piante basittone quali sono? Sono quelle che producono i rami più lunghi e più forti nelle porzioni più basse, più prossime alla base. sembrerebbe difficile il discorso, però se voi immaginate un'altra cosa, l'albero di Natale ce l'avete in testa a tutti. Come è fatto? Ecco, quello è uno schema basittono. abbiamo i rami più lunghi e più forti in basso e via via abbiamo delle inserzioni dei rami più corti. E questa è una cosa molto importante per arrivare alla potattura. Ci servirà proprio per ricavare alla fine lo schema giusto. Intanto, pensate alla geometria dell'albero di Natale. Che cosa vi ricorda? Che cos'è? Una piramide. Un solido che è un cono. Se la vuoi proprio fare a macette può essere una piramide. Diciamo che il cono forse è più naturale e ti servirà anche per richiamare un altro concetto perché alla fine noi proponiamo un metodo che si chiama vaso policonico. Questa parolina magica ti può servire dopo. E adesso spieghiamo anche il perché di questa cosa. Quindi il cono proviamo a riflettere. È una forma che viene molto incontro a quella che è la genetica dell'olivo. Abbiamo detto che è una pianta e eliofila. Quindi questa forma a cono è una forma che in natura riesce a catturare molto bene la luce perché le parti alte non fanno ombra alle parti basse. Come evoluzione non è mica male come concetto. Guardate poi come vegeta l'olivo. questo è un rametto. Vedete che le foglie sono messe su dei palchi. Abbiamo innanzitutto una punta che è un apice vegetativo. Abbiamo un palco di foglie poi un palco sottostante un palco sottostante ancora e come si accresce l'olivo. In pratica quest'apice sale su fa uscire due foglie fa allungare due foglie c'è una stasi che serve proprio per l'allungamento di queste foglie poi riprende a salire fa altre due foglie. Se voi notate il palco di sopra è messo a 90 gradi rispetto a quello che lo precede o che lo segue. Anche questo vi dà l'idea di quanto l'olivo sia eliofido. quanto vuole conquistare la luce del sole cioè cerca tutte le direzioni per non farsi ombra sembra così ma è anche intelligente cosa che non avremmo mai osservato senza l'aiuto di qualcun altro e quindi l'olivo usa tutte le strategie per conquistare la luce del sole e se lo lasciate da solo inevitabilmente si va a finire verso un cespuglio che poi è una forma che alla fine non è molto vantaggiosa però se noi vogliamo produrre produrre di più che cosa dobbiamo fare tendenzialmente dobbiamo avere più pannelli solari possibile il massimo numero di pannelli solari se poi andate a sfogliare i libri di agronomia vi mettono anche degli indici l'ai indice di area fogliare ma sono concetti troppo complessi parliamo terra a terra allora più pannelli solari mettiamo capaci di intercettare la luce più le foglie possono fare il loro mestiere più elaborati si producono questi elaborati si traducono in nuova costruzione e alla fine quando la pianta sta bene che riesce a svilupparsi come vuole in tutte le parti nelle parti più deboli di un anno più inclinate mette anche tante olive più è forte più ha pannelli in grado di funzionare ben illuminati più è sana più sta bene più alla fine si riproduce è un po' quello che fanno anche gli uomini anche se ormai purtroppo sta diventando quasi un lusso fare figli in questa società nostra però diciamo che tendenzialmente tutti gli animali e tutti prima si accrescono si evolvono poi quando sono in forza e a una certa età pensano pure a riprodursi noi vogliamo far riprodurre il più possibile l'olivo e quindi lo dobbiamo mettere nelle condizioni migliori di fare questo mestiere e quindi già con questi concetti riusciamo a darci un'idea introduciamo anche un altro concetto scientifico che è quello di dominanza piccale ne avrete sentito parlare di solito cosa vuol dire che dominano gli apici qual è il fenomeno della dominanza piccale perché è importante nelle piante qualcuno ha orecchiato qualcosa tu dovresti saperlo già a memoria allora gli apici cosa sono? sono queste punte dei germogli perché si dice che dominano? perché danno un messaggio che è il messaggio dello sviluppo tutto lo sviluppo della pianta è regolato da messaggi di natura ormonale gli ormoni sono delle sostanze chimiche che hanno la funzione di dare messaggi all'interno della pianta le piante non parlano perlomeno come facciamo noi però comunque hanno tutte le informazioni necessarie per guidare il loro sviluppo molto importante è questo messaggio dato dagli apici questo messaggio è dato da un ormone che sono le auxine tanto ormai su internet avete di tutto e di più andate a vedere queste cose le auxine sono gli ormoni della crescita e danno un messaggio molto semplice sono delle sostanze chimiche vengono prodotte dalle foglie da questi punti dei germogli scendono nella circolazione della linfa elaborata quindi e danno dei messaggi precisi intanto ai primi palchi di foglie danno un messaggio di estrema tranquillità però il messaggio più importante che danno è dammi da mangiare che devo crescere questo messaggio scende scende va a finire nelle radici le radici lo decodificano e mandano sopra acqua e sali minerali e quindi questo messaggio torna indietro arrivano le materie prime l'acqua è considerata una materia prima insieme all'anidride carbonica e quindi si può fare la fotosintesi e si può accrescere la pianta questo messaggio è una sostanza chimica abbiamo detto acido indolacetico le auxine chimicamente sono acido indolacetico ve lo potete controllare nei sacri testi e danno questo messaggio questo messaggio viaggia con velocità diverse all'interno della pianta e queste velocità diverse sono date da che cosa? dall'inclinazione del percorso su cui devono camminare se camminano in un percorso verticale scendono a bomba con una velocità molto elevata e se voi notate dentro le piante quali sono le parti che si accrescono più velocemente? i succhioni e i polloni alla base ma sopra la pianta abbiamo i succhioni e questo è un fatto che è importante da capire perché poi è un concetto che bisogna mettere a sistema perché se uno fa una semplice osservazione che magari ci arriva senza leggere nulla o senza studiare nulla vede che i succhioni crescono di più e cosa fa? taglia tutti i succhioni perché pensa siccome le olive vengono in quei rami obliqui la cosa più intuitiva io taglio quello e mi tengo la parte buona niente di più sbagliato perché tagliando quello date il messaggio alla pianta di fare esattamente il contrario di quello che vorreste voi ed ecco perché non va bene tutto ciò che si faceva prima e intuitivamente bisogna abbassare le piante perché? perché noi siamo bassottini qua dobbiamo lavorare bene quindi come si abbassa la pianta si prende una lenza da muratore si tende tutto quello che è sopra si dà una bella passata di motosega e così si fabbricano i legnaioli non i potatori perché poi quelle piante non possono rispondere perché la pianta ragiona con la sua genetica non con la nostra testa fare prepotenza con la pianta non serve perché se non si capisce come funziona la pianta abbiamo perso perso noi e perso la pianta perché la pianta non fa più quelle tante olive che dovrebbe fare e noi ci troviamo a fare lavoro sul lavoro e alla fine non ci conviene neanche quell'olio che produciamo quindi ecco perché l'olivo è la pianta della pace perché vuole compreso molto bene noi lo dobbiamo assecondare dobbiamo capire come funziona e poi arriviamo alla potatura altrimenti sarebbe troppo facile sarebbero tutti potatori basta comprare una steel potente e siamo tutti bravi non funziona così noi dobbiamo legare tutti questi concetti di natura scientifica li dobbiamo mettere a sistema e dobbiamo trovare il metodo che è il miglior compromesso non dico che sia la cosa migliore in assoluta è il miglior compromesso tra quelle che sono le esigenze nostre di raccogliere più olive in modo più facile nel modo meno costoso e quelle della pianta di sentirsi bene di vegetare il più possibile di essere messa in condizioni di fare più olive possibili quindi anche questo concetto della dominanza apicale ci serve perché noi dobbiamo regolare in pratica il flusso della linfa sia quella che va su che quella che scende allora sapete come funziona la circolazione nella pianta all'interno nei vasi del legno salgono l'acqua e i sali minerali all'esterno cioè salgono acqua e sali minerali fino alle fabbriche fino ai pannelli i pannelli costruiscono sostanza organica e la rimandano indietro tutti questi elaborati ritornano indietro perché vanno a nutrire tutti i rami i tronchi dove si accumula questa energia e fino anche alle radici le radici per vivere hanno bisogno degli zuccheri e di tutti gli elaborati quindi se non gli ritorna niente muoiono l'olivo si dice che funziona per corde ha una continuità tra quella che è la parte superiore che è la chioma e quella che è la parte che sta sotto il terreno che non vediamo che serve per alimentare tutta la chioma è un insieme perfetto che viaggia in equilibrio anzi vi consiglio di scrivere questa parola equilibrio perché il trucco è la chiave di volta per diventare bravi potatori i bravi potatori sono dei cercatori dei ricercatori di equilibrio se si riesce a interpretare l'equilibrio della pianta e a indurre magari anche un equilibrio diverso dal precedente però sempre più costruttivo e sempre migliore allora riusciamo a soddisfare questo compromesso queste esigenze della pianta e nostre sono soddisfatte quindi cosa proponiamo noi proponiamo questo metodo che serve per raggiungere questo equilibrio in maniera più stabile possibile e più costruttiva possibile e fortunatamente noi non siamo dei geni siamo dei semplici portatori di notizie noi proponiamo un metodo che è rispettoso di questo e vi spiego il perché e come unisce questo metodo si chiama vaso policonico che è un vaso qualcuno mi diceva io so già portare a vaso bene sei già a fare una parte del lavoro perché il vaso è il primo passo verso che cosa verso una struttura scheletrica più efficiente che cattura meglio la luce perché rispetto al globo al cespuglio alla sfera offre è una sfera scavata e quindi offre una maggiore superficie fogliare esposta al sole alla luce quindi il vaso è il primo passo policonico è il passo successivo perché è un vaso quindi una struttura svuotata al centro che è delimitata da più coni di vegetazione il cono di vegetazione per noi è un altro passo importante perché perché ci permette sempre di fare arrivare la luce in tutta la struttura e se voi andate a fare le misurazioni anche questa volta semplicemente geometriche in termini di volume possiamo avere un volume maggiore di pianta cioè da ogni pianta possiamo avere una struttura che ci dà più olive cioè possiamo attaccare più pannelli rispetto a una ciambella a un vaso normale dicotomico del resto questa è stata l'evoluzione il vaso dicotomico è stata la prima intuizione dell'uomo perché partiamo sempre dalla dominanza apicale lo vedete qua il messaggio che danno le auxine è questo stai tranquilla che a queste gemme che stanno alla base delle foglie danno questo messaggio di tranquillità stai tranquilla che finché ci sono io che vado in alto stiamo vivendo bene stiamo crescendo in armonia stiamo crescendo in pace tutto funziona bene quindi arriva il messaggio alle radici danno acqua e si sviluppa se un insetto mettiamo che venga la margaronia e taglia questo germoglio oppure un potatore che taglia questo percorso cosa succede? succede che questo messaggio non c'è più e quindi queste gemme partono guardate i segni nel tronco ce ne sono tanti quelli erano dei punti dove è stato interrotto il messaggio di equilibrio delle oxine quindi da un unico tronco se ne sono formati due da un percorso se ne sono formati due di pari diametro queste sono le dicotomie allora questa è stata la cosa più intuitiva dicevo nello studio di un sistema a vaso perché se noi abbiamo una stone iniziale di un metro facciamo una cimatura partono due branche facciamo l'anno successivo un'altra cimatura da due diventano quattro e così alla fine si forma un cestino formato tutto sulle forcelle è il sistema più efficiente? la risposta è no prima andava molto bene lo sapete perché? perché in queste forcelle si appoggiavano bene le scale adesso perché ridete si raccoglieva così questa è la storia della sto facendo un escurso sulla storia della potatura non solo in Italia ma dappertutto si appoggiavano le scale poi ci si è accorti che le scale qualche problemino lo danno chi chi le ha usate o chi tutti hanno qualche storia da raccontare di qualcuno che si è fatto male però funzionava così e quindi per farlo crescere un sistema a vaso impostato sulle dicotomie è anche abbastanza veloce il problema è che diventa ingestibile perché poi questa struttura fatta così impostata sullo sdoppiamento dei percorsi alla fine conduce in maniera irreversibile e molto veloce a che cosa un cespuglio fatto su percorsi che vanno verso il centro e verso l'alto quindi alla fine anche quelli più bravi non ci capivano più niente cosa si faceva colpo di motosega si azzerava la struttura e si ripartiva sappiamo tutti intuitivamente che ai tempi d'oggi non è più un un sistema percorribile e quindi bisogna ritornare a un sistema più efficiente nel vaso policonico si dovrebbero evitare questi percorsi sdoppiati la struttura più più forte per chi alleva delle piantine che poi sono da impostare in questo sistema cosa si fa dopo un metro si fa una cimatura e si lasciano crescere tutte le diramazioni sotto e si inizia a scegliere immaginate che queste non siano foglie ma rami allora si prende una direzione da questa parte poi si scende di un palco se ne toglie un'altra si toglie il doppio percorso e quindi si individua da un'altra parte a questo livello si fa la stessa cosa e a questo livello più giù si fa la stessa cosa e sotto il metro non si mette niente quindi abbiamo un'impostazione fatta a scala chiocciola che ha una diramazione su ogni livello e questo strutturalmente anche per chi che ha fatto studi di geometria che è geometra ingegnere scoprirà che è una struttura anche molto forte molto più resistente perché la struttura impostata invece su due direzioni che partono allo stesso livello è una struttura più instabile perché proprio al centro al momento al punto di più facile rottura quindi crescendo una branca crescendo l'altra si formano delle tensioni centrali che poi in caso di eventi anche climatici avverse può sbrancare e molto spesso queste strutture sbrancano per questo motivo perché hanno una debolezza in mezzo a due branche sullo stesso livello per vedere io ero dietro e non ho visto come ha fatto l'impostazione allora immagini che questi siano dei rami nell'impostazione del vaso si scelgono livelli diversi ogni ramo parte da un livello diverso rispetto a quello che lo segue o lo precede in pratica è come che siano inseriti su una scala a chiocciola su una spirale quindi questa struttura è molto più più robusta rispetto è più efficiente e questa poi l'altra cosa importante che cosa sono noi dobbiamo regolare il flusso della linfa che sale o che scende quindi l'energia interna della pianta e noi cosa facciamo dobbiamo scegliere una certa inclinazione per fare allargare queste branche parlate bene sto dicendo una certa inclinazione non sto parlando di 45 gradi e lo faccio volutamente così a scanso di equivoci perché tutti questi numeretti che molto spesso i grandi soloni sentenziano per far vedere un metodo sono numeri bugiardi perché le piante sono degli esseri viventi io sono diverso dal signore che è diverso da lui diverso da lei ognuno di noi ha le sue caratteristiche se tutti avessimo dovuto avere i capelli biondi longilini a me mi avrebbero ammattato subito e sarei quindi queste cose non le sopporto no ve lo metto in battuta perché perché ogni pianta ha la sua fisiologia la semidana è diversa dall'ogliastrina è diversa dalla bosana è diversa dalla sonda di cagliari quindi questo fatto delle angolazioni un potatore bravo sa perlomeno i miei allievi sanno che ogni pianta ha la sua inclinazione e la si vede guardandola perché se se io ho le branche già formate con questa inclinazione questo è un maestro caspita gioca facile guardate che cosa meravigliosa che ha fatto Gianluca che ha fatto il vaso policonico su un ramo ma è un artista Gianluca ha una sensibilità pazzesca vedete un po' questa inclinazione varia a seconda della qualità della varietà di olive quindi è inutile parlare che quest'angolo deve essere 45 gradi perché non 30 o perché non di più dipende dai messaggi che ci dà la pianta e che dobbiamo leggere il bravo potatore sa leggere quello che dice la pianta Gianluca evidentemente ormai le passa le radiografie come passa è già uno scanner che individua tutto sempre poi un momento noi molto spesso come in questo caso ci troviamo a operare su piante che hanno già una loro impostazione che non è quella nostra e qua si vede ancora di più il bravo potatore perché dobbiamo avere sensibilità e anche qua devo fare un altro discorso noi riusciremo forse se siamo bravi a trasmettervi quello che è un metodo per diventare bravi potatori non occorre avere solo un metodo occorre avere quella che si chiama sensibilità che se ve l'ha data a vostra mamma ce l'avete e se no non c'è nulla di fare proprio non se ne può cavare piedi quindi non tutti possono diventare bravi potatori bravissimi solo quelli che hanno sensibilità particolare devono essere persone preparate senza dubbio però devono avere una sensibilità di base quindi qua non lo so come qua siamo fatti tutti diversi il cono di vegetazione torniamo al cono di vegetazione tutta questa sarà una parte ricca di sottobranche che si allargano a partire dalla cima fino alla base quindi qua avremo una costruzione di una parete vegetativa la più ampia possibile con tanti pannelli solari esposti bene alla luce del sole molto importante saranno queste punte le cime cosiddette la cima non è un'altra costruzione un canone di bellezza o di bruttezza anzi la maggior parte della gente le vede con fastidio ma quelle punte che mi hai lasciato cosa ci fanno tagliale chi taglia le punte non ha capito nulla di come funziona l'olivo ve lo dico apertamente in modo da chiarire ogni dubbio perché è importante la punta in sardo sapete come si chiama sudiraggio ed è una parola che vi rende molto chiaro il concetto perché sudiraggio vuol dire che tira è una pompetta che tira su che cosa acqua e sali minerali dalle radici come li tira con quel concetto che vi ho detto della dominanza piccale dominano gli apici e quindi il messaggio scende in maniera repentina proprio molto veloce fino alla radice perché sta in un percorso verticale però l'apice costituisce che cosa la punta del cono quindi è la parte minore di tutta la branca quindi consuma poco di queste cose qua e distribuisce elaborati sotto in modo che si costruisca parete produttiva e allora sì che funziona bene questo concetto e allora sì che raggiungiamo l'equilibrio allora sì che riusciamo a fare una struttura che si mantiene meglio l'albero che ci piace o no deve salire su perché la sua natura è quella di spostarsi dal basso per poter intercettare la luce perché ci sono condizioni più favorevoli c'è più caldo l'aria è migliore e si fugge si fugge vedete quelle macchie gialle quelle quei licheni che stanno sotto oppure anche queste foglie ingiallite malate di occhio di pavone lo vedete perché ci sono nelle parti basse perché lì si ferma di più l'umidità quindi la pianta ha tutto il dovere il diritto di salire in alto fra l'altro dobbiamo smetterla di considerarci troppo bassi e di scaricare le nostre frustrazioni sulla pianta rendendola bassa anche essa perché la dobbiamo domare deve fare quello che dice noi che diciamo noi non quello che dice lei non abbiamo capito niente la pianta la dobbiamo fare andare in alto il più possibile fino a quando la possiamo gestire allunga quello strumento fagli vedere fin dove arrivi e questa è la base della tecnologia che abbiamo vedete che una persona di altezza dove può arrivare può arrivare tranquillamente a 5 metri e mezzo 5 metri perché dobbiamo fare le piante a 3 metri e 20 e la raccolta dopo questo allora signora la raccolta il problema della raccolta la raccolta intanto cos'è? è l'operazione che ci costa di più è l'operazione che regola tutte le tecniche le altre tecniche compresa la potatura proprio in funzione della raccolta noi ci dobbiamo abituare a fare economie quindi la migliore potatura è quella che ci porta anche ad avere migliori economie nella raccolta allora la prima cosa da fare intanto è potenziare la produzione perché più una pianta produce e meno ci costa la raccolta perché la raccolta se voi la fate su una pianta che produce 5 kg di olive o 40 kg di olive o 60 kg di olive come costo è uguale il problema è che avete una produzione lorda vendibile così si dice nei sacri testi di economia molto diversa quindi più produciamo e già ci viene più facile la raccolta più abbiamo una parete vegetativa che ci consente di arrivare dall'esterno facilmente più riusciamo a fare bene la raccolta poi la raccolta qua è un passo successivo dobbiamo sapere che può essere fatta con degli agevolatori a mano come questi può essere fatta anche con dei vibratori al tronco quindi nel caso dei vibratori al tronco questi metri diventano anche pochi a volte perché non dobbiamo salire noi sale la vibrazione semmai dobbiamo regolare la vegetazione in modo che non ci siano parti che scendono pendaglie con l'idocca e quello è facilmente risolvibile se uno sa già quello che deve fare il problema di avere le cime a 6 metri non è un problema perché la cime intanto non produce tutto ma regola la produzione sotto quindi se lasciamo anche ci sfuggono di olive che lasciamo i tordi non è questo il nostro problema dobbiamo pensare a quante cassette riusciamo a riempire e quindi quello schema ci serve per avere il maggior volume di chioma esposto al sole che ci dia tante olive quindi è un falso problema quindi il metodo non c'entra nulla a quello signora le dimostro con i fatti che la la forma che dice lei allevata più bassa e a ciambella a ruota di bicicletta è una forma che lei raccoglie con più costi perché intanto nella ciambella non riesce ad arrivare dappertutto e poi nella ciambella ha una fascia di vegetazione di un metro quando lei potrebbe averla tre volte tanto e produrre poi il posto se in discesa rimane in discesa se in piano rimane in piano però quello che conta è che se la struttura della pianta è in grado di essere messa in condizioni di produrre di più è sempre un vantaggio per la raccolta non è un limite il vaso policonico all'ogliastra e non sta scritto da nessuna parte poi io è vero che sono del sassarese però le assicuro che la Sardegna l'ho girata un po' tutta e lo stesso discorso lo fanno con lo Sfanatica e lo stesso discorso lo fanno dappertutto ma non solo in Sardegna le dirò che in Italia è la stessa cosa purtroppo quello che è mancato è la divulgazione da Roventini che era diciamo il precursore che ha messo a punto un metodo che che ha formato tutti noi ovviamente non bisogna fermarsi lì perché schematizzare troppo è una cosa che non non funziona Roventini addirittura diceva che la struttura migliore non era questa a 4 ma questa a 3 se andate a sfogliare i libri tanto c'è più che i libri tanto ormai tutti funzionano col cellulare andate a vedere il vaso di Roventini era a 3 branche lui estremizzava il discorso della struttura la più semplice possibile in grado di attaccare il maggior numero di fronde possibili c'era un altro studioso che era il capo degli spettorati agrari della Toscana si chiamava Nizi Griffi e diceva che l'olivo per produrre ha bisogno di molta frasca molta fronda e poco legna le piante che facciamo noi in questo modo sono più legna che frasca al contrario di quello che diceva Nizi Griffi e comunque sia ripeto il metodo è quello lì l'applicazione è una cosa che va condotta con molto molto equilibrio noi diciamo che il vaso policonico i criteri fisiologici del vaso policonico sono quelli che contano per costruire la struttura però non siamo d'accordo sul fatto che ci si arriva subito perché l'olivo è anche contrario a questa cosa vogliamo tutto e lo vogliamo subito i peggiori nemici se volete scriverlo del vaso policonico sono gli estremisti del vaso policonico a questo ve lo posso controffirmare perché io vengo spesso chiamato da alcune persone per valutare non lo so vogliono farmi stimare i danni il mio mestiere non è stimare i danni e fare altre cose e dice ma non va bene lo vede che calma ragioniamo il problema che hai tu che per 5 anni non ha più prodotto la pianta è perché sei arrivato al vaso policonico chiamando degli esperti di quelli che non hanno nessun dubbio che non si mettono problemi scimitarrate e cosa succede che la la pianta quando voi la svuotate la squilibrate nel quindi cosa succede quando induciamo uno squilibrio enorme la pianta si sente in pericolo di vita e cosa fa butta succhioni risveglia succhioni perché è costretta a rinascere in quel momento il suo la sua esigenza è quella di sopravvivere e quindi sfoga succhioni dopodiché arriva quel potatore furbo e continua a togliere gli succhioni alla fine si ingaggia a una battaglia che non serve né alla pianta né al potatore perché sono tutte mancate produzioni e quindi perché dico che il peggior nemico del vaso policonico sono gli estremisti perché comunque bisogna ragionare sempre con un essere vivente e con delle strutture che la pianta ha formato nell'arco del tempo io devo reindirizzare dove posso devo semplificare devo ridurre il numero dei percorsi con i quali la pianta va a cercarsi la luce però non devo interrompere drasticamente il suo equilibrio adesso facciamo un po' meno chiacchiere e vediamo di tradurre in atti pratici quello che dobbiamo fare allora la prima cosa da fare quanta che cos'è girarci intorno e quindi prendiamo una bacchetta magica questa è anziana e iniziamo a vedere come è stata conformata questa pianta queste evidentemente sono state lavorate probabilmente anche da poco perché vedo che c'è un tentativo di struttura a vaso che che pensi che 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 è che 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 che